Cari amici, buon anno! Iniziamo questo anno portando a compimento il Natale del Signore. Sono trascorsi otto giorni dal suo Natale e portiamo a compimento il Natale del Signore riconoscendo la grandezza di Maria. Ella è la madre di Dio e chiediamo a Gesù, a Maria, chiediamo anche a San Giuseppe che ci donino, implorino Maria e Giuseppe, Gesù ci doni quella pace di cui tutti abbiamo bisogno sulla faccia della terra. Siamo ancora coinvolti nel mistero drammatico del Natale. Si riparte dai pastori nel Vangelo di questo primo giorno dell'anno e sono loro che ancora ci fanno andare a Betlemme, ci fanno guardare il bambino avvolto in fasce che giace nella mangiatoia. Ma immediatamente i pastori compiono il loro dovere, il loro compito, quello di annunciare, testimoniare chi è questo bambino. E abbiamo due reazioni differenti a questa loro testimonianza. La prima è che tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette dai pastori. Siamo davanti a un annuncio che supera qualunque attesa. Nella notte di Natale gli angeli avevano detto ai pastori Oggi nella città di Davide vi è nato un Salvatore, il Cristo, il Signore. E loro dopo aver verificato questo annunciano Gesù come Salvatore, come Cristo, come Signore. Sono i grandi titoli che definiscono l'identità di Gesù nel Vangelo. Poi abbiamo un'altra reazione, quella di Maria. Maria da parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Anche lei si accorge di essere dinnanzi a un mistero, a una realtà grande. Forse qualcosa aveva capito, aveva intuito del mistero di questo figlio. Forse aveva anche condiviso, trepidato con Giuseppe. Però certamente ella si sofferma dinanzi a quello che Gesù è. Lo ha accolto nella fede, lo ha generato nella carne, ora deve cogliere il mistero di suo figlio. È un passaggio in più. Ed ella coglie il mistero di suo figlio attraverso l'annuncio dei pastori, attraverso quello che i pastori dicono di lui e nello stesso tempo continuando a crescere nella fede. Ecco, si apre un nuovo anno, proprio al compimento del Natale. E allora chiediamo la grazia in questo anno di essere come i pastori che sanno annunciare e testimoniare Gesù, il Cristo, il Signore, l'unico Salvatore di tutti gli uomini. Chiediamo a Maria la grazia di saper contemplare il mistero del figlio. Sono trascorsi otto giorni e gli viene messo nome Gesù, come fu chiamato dall'angelo, ci dice il Vangelo. Gesù vuol dire Dio salva. Ecco, iniziamo questo anno consapevoli che Dio viene a salvarci, che Gesù ci salva, che solo Lui può salvarci. Buon anno ancora a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.